buonasera la mia non è un tentativo di dare una definizione della intuizione non ne sarei capace e finirei da buon avvocato con il vendervi esclusivamente delle parole vi propongo viceversa una intuizione una mia intuizione o forse è un'intuizione ci sono degli angoli meravigliosi del nostro paese che sono insignificanti sconosciuti ai più ma che per ciascuno di noi significano qualcosa di speciale questo intervento forse dovrei dire questa intuizione per stare al tema di questo tedx è nato in uno di questi posti le sorgenti delle capore piccolo angolo di foresta vicino a roma ma soprattutto vicino ad una piccola casa nella quale sono cresciuto e dove ogni tanto torno a ritemprare il corpo e la mente dallo stress della professione l'altro giorno in questo posto speciale mentre bevevo un bicchiere d'acqua minerale vedevo la l'acqua che scrosciando parte alla volta di di roma per finire nei nostri nei nostri rubinetti ho pensato ad una lezione che avevo fatto qualche giorno prima in università a proposito del rapporto difficile che c'è tra la proprietà intellettuale quella che governa la circolazione dei film della musica dei libri dell'informazione e le nuove tecnologie è stata un'intuizione io credo sia stata una intuizione la classica lampadina che si accende sulla testa dei personaggi dei dei fumetti probabilmente anche chi di voi è dotato di una immaginazione più fervida in questo momento si starà chiedendo cosa c'entra l'acqua minerale con la proprietà intellettuale o più semplicemente vi starete interrogando sullo stato di salute mentale di chi vi parla e come dire non posso darvi non posso darvi torto vi chiedo 13 minuti o poco più di fiducia per vedere se questa intuizione esiste o se è stata un'allucinazione dovuta comunque all'acqua minerale per ora mi limito a dichiarare l'obiettivo e l'obiettivo è quello di suggerire che esiste una analogia forte e prepotente tra l'acqua e la circolazione la distribuzione delle acque minerali e quella della proprietà intellettuale e che questa analogia è così tanto forte che forse i governi e i regolatori del mondo intero che in questi anni si stanno interrogando con insistenza su come si debba fare per garantire le regole migliori al diritto d'autore ai brevetti alla proprietà intellettuale nel mondo di internet non dovrebbero far nient'altro che ascoltare la lezione dell'acqua in questo ragionamento probabilmente va alla pena come suggerirebbe un buon chimico di cominciare dagli elementi e di lasciare sullo sfondo le formule ed è quello che proverò che proverò a fare l'acqua h2o per chi è innamorato degli elementi costituisce il 70 per cento del corpo umano e più o meno la stessa percentuale dell'intero 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 pianeta l'acqua è il principio di tutte le cose diceva taleite ed era il sesto secolo avanti cristo non è esagerato quindi dire che l'acqua è un elemento essenziale dell'esistenza umana io credo che allo stesso modo ci si possa trovare tutti d'accordo nel dire che il sapere le arti la musica i film il cinema l'informazione il sapere tutto costituiscono elementi altrettanto essenziali della esistenza umana cosa sarebbe la nostra esistenza senza le idee senza l'informazione senza l'ingegno senza la possibilità di crescere e ascoltando cosa gli altri hanno da dirci o guardando cosa gli altri hanno creato attraverso il loro ingegno una prima analogia quindi importante è che l'acqua e le idee l'acqua e le creazioni intellettuali sono due elementi essenziali nella nostra esistenza ma acqua e creazioni intellettuali sono hanno molto in più in comune perché sono entrambe straordinariamente leggere neutre trasparenti eppure questa leggerezza questa apparente neutralità non gli impedisce di essere forti e travolgenti al tempo stesso talvolta naturalmente in senso positivo e tal'altra in senso negativo basti pensare all'effetto positivo di una pioggia abbondante su un campo arido e all'apertura di una scuola in una zona non civilizzata del paese ma se voglio guardarla in negativo basta viceversa pensare alla irruenza e all'effetto devastante di uno tsunami e all'effetto altrettanto devastante in alcuni momenti della nostra storia del diffondersi di certe ideologie. L'acqua quindi come le idee l'acqua come la cultura unisce e divide i popoli rende agevoli gli incontri rende agevoli gli scambi ma nello stesso momento può dar vita a incredibili barriere può nutrire come non nutrire può far crescere o viceversa frenare lo sviluppo di taluni di taluni pensieri di talune di talune idee sin qui per quanto riguarda gli elementi ma le analogie le vicinanze concettuali tra l'acqua e le idee divengono ancora più importanti se prendiamo l'acqua le idee le creazioni intellettuali e le caliamo in una dimensione dinamica e invece non non più e non più statica perché scopriamo così che entrambi gli elementi sono presenti nell'universo in una dimensione enorme ma in apparente contraddizione rispetto a quella che è una regola economica a portata di avvocato e cioè quella che è un'alta offerta la presenza di un'alta offerta dovrebbe rendere basso bassissimo il valore del bene viceversa tanto l'acqua quanto le creazioni intellettuali hanno dato vita dei mercati che ormai valgono miliardi e miliardi di euro e ci si avvede anche che acqua ed idee pur essendo a portata di mano di tutti costituiscono e hanno costituito nel tempo in realtà appannaggio esclusivo di pochi penso alle grandi società distributrici di acqua minerale penso alle grandi etichette dell'audiovisivo le measure dell'audio dell'audiovisivo ma le analogie non finiscono qui perché in realtà entrambi i mercati proprio grazie alle nuove tecnologie a tecnologie naturalmente diverse sono negli anni diventati assolutamente globali l'acqua evian che che sgorga sulle insorgenti francesi si ritrova sulle scrivanie dell'intero continente asiatico così come negli stati uniti d'america e i film prodotti a hollywood ormai attraversano attraverso la fibra ottica gli oceani e finiscono dentro le nostre dentro le nostre le nostre case e sempre per stare alle analogie tra l'acqua e le creazioni intellettuali ce n'è un'altra drammaticamente importante un giro dentro un supermercato e un giro dentro uno store una libreria o piuttosto un negozio di cd e di dvd cosa ci racconta ci racconta che in realtà ormai quello che conta di più è la confezione e il packaging e il marketing che scegliamo un prodotto che si tratti di una bottiglia di acqua minerale o che viceversa si tratti di un contenuto creativo molto e soprattutto sulla base di come quel prodotto viene confezionato ci viene ci viene proposto ci lasciamo abbagliare dalla forma e mi vengono in mente pensando a questa analogia le parole di uno dei primi libri di andrea camilleri che appunto era la forma dell'acqua c'è un passo in cui uno dei personaggi dice che fai e l'altro risponde qual è la forma dell'acqua ma l'acqua non ha forma piglia la forma che gli viene che gli viene data e la confezione in realtà che è la scommessa principale di chi vende di chi vende acqua minerale con la bottiglia e con la pubblicità che ci convincono ad acquistarla così esattamente come accade per la più parte delle creazioni delle creazioni delle creazioni delle creazioni intellettuali e allora se ci sono così tante analogie l'esercizio che ho fatto e l'esercizio che vi propongo per tranquillizzarvi come dire condivido il fatto che mancano al verde 5 minuti e 53 secondi e che poi il rosso lascia poco spazio in più per per concludere ma la mia idea è semplicemente quella di pensare cosa accadrebbe domani mattina se attraverso i rubinetti attraverso le condutture idriche i rubinetti delle nostre abitazioni noi potessimo ricevere direttamente dentro casa le acque minerali che oggi dobbiamo andare a comprare al al supermercato cosa cosa accadrebbe come cambierebbe il nostro modo e il nostro rapporto con l'acqua minerale mi viene da dire che è piuttosto facile per vedere che in pochi continueremo andare al supermercato a pagare il prezzo elevato e soprattutto a incollarci il pacco dell'acqua minerale che un buon numero di noi sarebbe disponibile a pagare un prezzo per vedere sgorgare l'acqua minerale diversamente direttamente dal suo rubinetto e che naturalmente quel prezzo se lo immaginerebbe più basso rispetto al prezzo che abbiamo pagato sino oggi a comprare l'acqua minerale al supermercato e che inesorabilmente qualcuno i creativi e i furbi non mancano da nessuna parte proverebbe ad attaccarsi direttamente alle tubature di qualcun altro e a spillare dell'acqua minerale non pagando niente e portando a casa l'acqua frizzante che ieri magari non andava nemmeno a comprare al supermercato ecco se ci pensate questo è esattamente quello che sta accadendo con la digitalizzazione nei processi di circolazione dei contenuti dei contenuti creativi qualcuno in realtà pochi oggi continuano andare dal giornalaio in edicola a comprare il giornale al cinema a vedere il film o a noleggiare un dvd alcuni per la verità non non tantissimi scaricano i contenuti creativi dei pochi servizi legali in questo momento disponibili e alcuni forse molti forse troppi evidentemente si attaccano così come farebbero alle condutture idriche alla rete internet e scaricano i contenuti senza pagare il relativo prezzo e quindi l'analogia tra l'acqua alla circolazione dell'acqua minerale e la proprietà intellettuale è forte anche in una dimensione dinamica siamo di fronte ad una rivoluzione di portata epocale esattamente come sarebbe rivoluzionaria l'idea di vedere sgorgare l'acqua minerale con tanto di bollicine direttamente dal rubinetto di da rubinetto di casa poi bisognerebbe governare le bollicine nel bagno se si sceglie di utilizzarne una in in particolare e quindi il tema è cosa deve fare cosa può fare lo stato di fronte ad un fenomeno i governi di tutto il mondo di fronte ad un fenomeno tanto rivoluzionario la mia idea o perlomeno la mia idea della lezione dell'acqua la mia intuizione sulla lezione dell'acqua e che in un contesto di questo genere il ruolo dello stato non possa che essere quello di arbitro tra il giusto equo diritto a che il creatore di una qualsiasi opera dell'ingegno riceva una remunerazione per il suo sforzo creativo ed in particolare per la condivisione di questo sforzo creativo nella nella comunità e che naturalmente gli utenti a loro volta possano davvero beneficiare dello sforzo creativo altrui però in nel rendersi arbitro di questo scambio la lezione dell'acqua ci dice che in realtà i governi di tutto il mondo cosa che sempre più raramente purtroppo accade dovrebbero guardare alle creazioni intellettuali come ad un bene che non ha soltanto un valore economico ma che esattamente come l'acqua ha un valore sociale democratico diverso completamente diverso dagli altri beni giuridici economici quindi non è possibile o non dovrebbe essere possibile imporre in maniera tanto prepotente una privativa sulle idee esattamente come non è possibile o non dovrebbe essere possibile imporre private troppo forti sulla distribuzione dell'acqua minerale sarà anche un bene potrà anche essere di qualcuno sarà anche vero che il risultato dello sforzo creativo di qualcuno ma la circolazione di quel bene non è solo un fatto di soldi è un fatto che ha un impatto mostruoso sull'esistenza di ciascuno di ciascuno di noi e allora qui siamo all'ultimo minuto del verde e quindi anche alla fine di questa chiacchierata è quello che io mi chiedo nel prendere atto che ovunque nell'industria dei contenuti così come nei governi vi è invece una resistenza straordinaria nel governare in modo illuminato il futuro della circolazione delle idee e delle creazioni intellettuali quello che io mi chiedo è è possibile che il web che è il più grande mercato nella storia dell'umanità è un mercato che si avvia a contare tra i miliardi di persone in tutto il mondo non basti davvero a soddisfare le esigenze e gli interessi dei produttori di contenuti e degli autori è possibile che non esistano modelli di business capaci di garantire alla comunità globale l'accesso all'informazione e alla cultura garantendo al tempo stesso agli autori agli inventori ai produttori di contenuti la possibilità di guadagnare quanto è loro necessario per continuare a produrre di nuovo intelletto ingegno e opere utili per tutti quanti per tutti quanti noi siamo entrati nel rosso è il momento dei il momento dei saluti e quello dei ringraziamenti ma prima è il momento della condivisione della intuizione posto che questo era il tema questo è il tema di questo di questo ted la mia sensazione è che in realtà serva solo ed esclusivamente un nuovo patto sociale nel quale gli stati dovrebbero farsi promotori e garanti terzi severi senza lasciarsi tirare però dalla giacchetta da nessun tipo di interesse politico ed economico di questo scambio di utilità quello che l'autore e l'inventore mette a disposizione della collettività e la remunerazione che il singolo garantisce all'inventore all'inventore stesso e allora il messaggio nella bottiglia e l'auspicio che condividendo con voi questa intuizione vorrei affidare alle correnti della rete e che nel mercato della proprietà intellettuale si possa presto assistere ad uno stemperamento dei toni che quelli che oggi sembrano acerrimi nemici i produttori gli autori gli inventori e i fruitori di informazione e cultura possano riscoprirsi per quello che sono davvero cioè appartenenti ad una stessa ed identica ed identica comunità studiare la lezione dell'acqua farne tesoro per governare la proprietà intellettuale questa in straordinaria sintesi perché tra un minuto e 25 secondi mi dovrò fermare ma forse lo farò prima la riflessione che lascio al vaglio della comunità scientifica perché come dire il TED serve a far rimbalzare lontano anche da qui questa questa come tutte le altre idee agli addetti ai lavori ai legislatori e ai governi pantarei e naturalmente vi auguro buona prosecuzione auguro buona fortuna al futuro e attraverso il futuro auguro buona fortuna a noi stessi grazie 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 grazie